Quegli spostamenti e quei viaggi in macchina fino a Termoli in banca per depositare l'incasso evidentemente erano stati notati da qualche malintenzionato che questa mattina ha deciso di agire. Il colpo poco dopo le 10 sulla statale 16 in territorio di Campomarino, dove uno dei soci del distributore Time Oil è stato aggredito e rapinato da tre uomini. Era da poco uscito dalla stazione di servizio e viaggiava in direzione Termoli, quando è stato affiancato e poi costretto a fermarsi da un'auto grigia che gli ha bloccato la strada. A bordo tre uomini con il volto coperto da una maschera che hanno minacciato il titolare del distributore di 70 anni. Non avevano armi ma in due lo hanno immobilizzato mentre il terzo aperto la portiera e preso la borsa. Dentro poco più di 16 mila euro l'incasso degli ultimi giorni. Preso il bottino i tre sembra che per la fuga abbiano imboccato una stradina che porta al nucleo industriale. Sotto sciocchi il titolare del distributore che ha chiamato il 113. Sono stati subito disposti i posti di blocco in collaborazione con i carabinieri ma della banda per ora nessuna traccia.